Bella a tutti ragazzulli e benvenuti in questo nuovo video, sono maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo signori miei Prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come maullo941 sia su Instagram che su Facebook Soprattutto su Instagram ragazzulli vi aggiornero sugli orari delle live e quando ci saranno le live signori miei E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni trovate il link comunque per fare tutti l'ambratante del discorso che ho detto fino a questo momento In descrizione al video, detto questo partiamo e non perdiamo tempo Ok ragazzulli, allora prima di andare alla partita noi l'altra volta abbiamo ricevuto un'offerta di trasferimento per Naga di 14.1 Allora andiamola a trattare signori, perché ho detto che meno di 20 non accetto Sicuramente poi la dirigente sbroccherà e accetterà un'offerta a lei qualsiasi, mandandoci tutto a quel paese Però dico io, meno di 20, diciamo che meno di 18 non accetto Dico Naga ha 20 anni, parliamo, è un 76, loro hanno sbroccato subito, neanche l'hanno voluta C'è una grossa differenza dalla votazione del giocatore, e vabbè ciao, il mercato delle pulce è lì all'angolo, puoi andare a cercare qualcosa lì se trovi qualcosa di buono Ok signori miei, allora Naga ha sbroccato, quindi dico è anche inutile metterlo in campo Naga ha sbroccato, quindi non penso sia proprio, vabbè, diamogli una partita, diamogli una partita al posto di Morris, signori miei Diamogli una partita di addio, ecco, facciamogli giocare la partita di addio, questo riusciamo a recuperarlo Questo è che riusciamo a recuperarlo se gioca qualche partita, vediamo, non è detto, non è detto Contro il Cardiff, signori miei, partita fondamentale, siamo fuori casa, loro vengono da un pareggio contro il Queen Park Rangers Sabato 18 marzo 2023, che ci fanno noi? Perdiamo 2 a 0, no, non me l'aspettavo questa Il sogno si infrange, raga Naga porta scompiglio nella squadra e noi perdiamo Entrano Morris, Mariani, Esposito per Naga, Red e Amponsa E se fatto male, casa dei Ai 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 Andiamo qui agli allenamenti, andiamo qui agli allenamenti, continuiamo ad allenare i nostri Giocatori, Claudio si allena male, Curumano non vuole sapere niente di crescere Mariani è sempre fermo a 68, va bene, va bene, bravo Mariani, bravo Mariani Giocatore infortunato, che si è fatto casa dei, 6 settimane, perfetto Stagione finita anche per casa dei, signori miei Chi ha furia di ballare, nelle ballere e fare le serate a divertirsi Pagato la causa del recessoria Cosa? Verrà che il PSV ha accettato di pagare la causa del recessoria di 16 mila 16 milioni per Naga Lo sapevo io Lo sapevo io che mi avrebbero rotto le uova nel paniere Eh va bene, non ricordiamo minimamente che Naga avesse una causa del recessoria Però va bene, cioè il gioco fa quello che vuole, perfetto Masato Nakasuke Naga C'è riflettuto che lei non ha fatto niente per risolvere la questione legata alla sua modella La scena è che non ci piace avere bisogno su questo Ma se avete già accettato la causa del recessoria Dai Amici l'è tornato, ok Amici l'è tornato, ok Abbiamo la partita contro il Blackburn Contro il Blackburn Allora, fermi tutti C'è un po' di Kajara Casa Dei è fuori per Kuruma Dove sta Kuruma? Kuruma è pure in nazionale Perfetto Madonna mia, raga Che cosa ho appena visto? Che cosa ho appena visto? Non abbiamo un portiere Perché Adama è pure in nazionale Non abbiamo un portiere Allora, calma e sangue freddo Calma e sangue freddo Allora Nicholson è in nazionale E noi abbiamo un solo esterno Dobbiamo andare a prendere i giovani dalla primavera, raga Ma porca miseria Ma voi vi rendete conto? Allora, stiamo calmi Abbiamo un portiere Non posso far cretinate ora, signori Abbiamo Brennan Che è un 72 Impresa dalla squadra Dusseldorf Richiamiamo Brennan Richiama giocatore Sì Non può essere Mi dispiace Brennan mio Sei troppo importante Poi E quindi un problema l'abbiamo risolto Poi Mi manca un esterno destra Andiamo a vedere se per caso Tra i giovani abbiamo qualcuno che si può adattare Sinistro Sinistro Ok Sanno fare tutti solo l'esterno sinistro Sia quest'Amponsa che quest'Olivera Non si sa Non si sa Non si sa Casadei e Kuruma No Allora, stiamo calmi Ragioniamo Ragioniamo Allora McKill No E Adamano Allora McKill esce per Brennan E quindi ci siamo Watanabe fuori per No Cosa ancora non si è rimesso Nicholson fuori per Esposito Che può giocare tranquillamente Ray Damponsa E Casadei fuori per Mariani sa fare l'esterno No Morris E' un attaccante Attaccante destro Peter Pan sa fare l'attaccante destro Boh Andiamo fiducia a Peter Pan Signori Le leviamo a Yadama Che Non è Ci portiamo Johnson in panchina Li facciamo vedere come è la panchina Ci portiamo al Vares E ci restiamo Harwood A posto di Casadei Proprio Siamo con le pezze Nel 23 Signori miei Nel momento forse più importante della stagione Siamo con le pezze Al 23 Va bene Va bene Va bene Giocatore ha rientrato al presto Contro il Blackburn Riuscissimo a portarci una vittoria a casa oggi Signori miei Loro vengono da una vittoria contro il Queen Park Rangers Che ce famo noi Sabato 25 marzo Vinciamo 3 a 0 Doppetta di Naga Un gol di Claudio Si è fatto male Esposito Che è uscito per Mariani E' entrato al Vares Per Raid Grandissimo Abbiamo giocato con il Peter Pan Sulla destra Signore E con Brennan E' rientrato al prestito Subito E' mandato subito in campo Però abbiamo vinto Tantissima roba Signori miei Tantissima roba Giocatore infortunato 6 settimane Per Esposito Perfetto E Brennan E' tornato al prestito Aspettate C'era un'altra mail Che dice Raid Ho bisogno di giocare più spesso Il mio attuale Ma stai scherzando Raid Cioè è titolare in ogni partita Raga ma stanno iniziando a sbroccare un po' tutti Praticamente Ma non va bene questa cosa Questa cosa non va per niente bene Stanno iniziando a sbroccare tutti Abru Marcos Mariani Claudio E mettiamo il portiere Mettiamo Machille In nazionale Mannaggia a te Mettiamo 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 Raid Dai Diciamo D'entrata una bestia Raid Sì Dai Velocezza scatto Controlla palla Dribbling Dai a Raid Mia Diventa un 75 Portaci La gioia Portaci la gioia Va bene così Dai così Dai così Possiamo partire Non so che scuola Il Leeds Scontro diretto Signori miei Naga venduto Mamma Che tristezza Mamma mia Speravo di recuperarlo Ma mi sono dimenticato Che avevano accettato La casa La recessoria Naga venduto Che tristezza Che tristezza Mamma mia Eh va bene Se ne è voluto andare Un nostro campione Che prende Il largo Praticamente Un nostro campione Che prende il largo A questo punto Che è arbiatissimo Ma non me ne frega Solamente nulla Arwood 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 Ci portiamo Kuruma Sì 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 Portiamoci Kuruma E lo sostituiamo Così Perfetto Va bene signori Andiamo Andiamo in campo Allora Bicchiere Mezzo Vuoto Perché abbiamo Perso Un buon Campione Come Naga Bicchiere Mezzo Pieno Perché abbiamo Lo sconto Diretto Contro Il Litz Che ha 67 E noi Siamo A 62 Abbiamo Solo 5 Punti Di Distacco Signori Ce la Possiamo Fare Loro Vengono Da una Sconfitta Contro Il Raiding Noi Che Ce Famo Vinciamo 2-1 Gol Di Per Kurumai Mariani Bella Così Signori L'abbiamo Vinta Non Il 79 Mamma Mia Signori Ci avviciniamo Ai playoff Ci avviciniamo A playoff Siamo A un Punto Dai Playoff Signori Siamo A un Punto Dai Playoff Tanta Robba Signori Tanta Robba 4 Mail Perché Sono Arrivati Gli Osservatori E Tutti Quanti Le Secondo Squadra Giovanile Le Secondo Giovani Talenti Disponibili Allora E il Mutanda Il Mutande Me Lo Prenderei Non Sembra Per Niente Male Il Mutande Tanta Robba Il Razzo No Lo Rifiutiamo Maro Non Rifiutiamo Alfumi Lo Rifiutiamo Alfumi 2 Non Sembrerebbe Male Lo Engaggiamo Quasimodo No Somaili No Via Quindi Primo Osservatore L'abbiamo Sistemato E Dovremmo Mandarlo A Qualche Alta Parte Dal Messico Abbiamo Monte Abbiamo Già Preso L'altro Portiere Quindi Lui No Giose Duarte 75 94 Ingaggia Non Sembra Niente Male Vincent Villalba 69 93 No Questa No Inguardabile Benitez Inguardabile Villalba Inguardabile Ok E infine Abbiamo Morris Ultimo Osservatore Che Dal Portogallo Ci Porta Diego Royce Rios Scusatemi Che Non Sembra Male Ingaggiamolo Vediamolo Petera Inguardabile Madera Inguardabile Dominguez Inguardabile Peralla Paralla Inguardabile E Lobo Inguardabile Va bene Dobbiamo Dobbiamo Rimandare Gli Osservatori In cerca Di Nuovi Talenti In Giro Per Il Mondo Siamo Con La Partita In Casa Con Il Park Rangers Il Primo Di Aprile Signori Mie E Siamo A Un Punto In Playoff Con Una Partita In Meno Signori Siamo A 39 Partite Abbiamo Una Partita In Meno Siamo A Un Punto Dai Playoff Detto Questo I Vi Lascio Con La Collina In Bocca Vi Ringrazio Per Questo Video Vi Ringrazio Per I Like Per I Commenti Per I Suggerimenti E Per Il Supporto Noi Ci Vediamo Sempre Qui Sul Canale Per Un Prossimo Contenuto Bella Raga Ciao